Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella terza puntata qui su Farming Simulator 2015 Oggi sono in compagnia con il famigiratissimo Marchetto87 Buonasera a tutti E del nostro Comasco AgriMarco99 Buonasera a tutti ragazzi Allora facciamo un breve ripilogo di cosa è stato fatto la scorsa puntata Scusate abbiamo trebbiato e riseminato il campo 29 Riseminato il campo 24 e 38 di Segale Giusto Marco mi sembra Segale no? Esatto Esatto Oggi invece cominceremo a raccogliere la Segale al campo 24 e al 39 38 38 scusate E trebbiare un po' di colza al 29 Nel frattempo penso che venderemo anche qualche caro di roba per comprare il terzo trattore Per fare il nuovo acquisto Vale a dire il sciametto Il sciametto Ok dai Montiamo su Agri Dagni e trebbiare Ah ragazzi volevo fare innanzitutto una premessa Ringraziarvi per le visualizzazioni che ci sono state Quindi un sentito grazie a nome di tutto l'agri team Un'altra cosa abbiamo fatto l'aggiornamento Dalla 1.9.1 alla versione 2.0 della mappa Infatti come potete vedere in basso a destra sopra al contachilometri Adesso è spuntato fuori diciamo tutto ciò che riguarda la gestione del terreno Come potete vedere c'è il pH, l'umidità, i nutrienti E tutto quello che ci va dietro Druido dov'è che era da scaricare la cosa? Del secondo Silos Sì sì no ma intendo che deposito Al montacarichi cereali Ah 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 questo qua vicino Mamma mia come drifta Mamma mia come laga stasera Di laga Eh stasera sì Purtroppo è un laga Ma poco poco eh però Lo sento ogni tanto che tira la lagatina Eh siamo solo i 100 stasera Eh sì anche me Magari o è la server della di farming oppure proprio la connessione Ragazzi sto periodo stavo facendo un tempo di quelli bruttissimi Credo da tutte le parti Ma dove abiti tu? Come? Ma da me oggi da me oggi c'era un sole che spaccava le pietre Mamma mia qua Vabbè qua non era Qua c'era un po' di venticello ma verso le 5 Dove abiti? In Transilvania No al Polo Nord No in Transilcomo In Transilcomo È il paese dei trans Il paese... no Non mi dire che hai preso questa malattia anche tu eh No no io no non ancora E spero mai di non prenderla Ah no perché se no vengo lì a Como ti vengo a prendere io Mi mi consolo Meglio vedere che ho preso della grappa Ah ma va 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 a bere la grappa Beh Potto mettere Non so se mai la grappa Eh è un bel poco come è sicuro Occio che ti mette i cavi sotto Eh Occio che ti mette i cavi sotto Cioè ti mette i cavi sotto Cioè ti get hit un rubet che è le grandi Un quinto della trebbia Sta indirio di una riga no? Ora stai sott' terra Sì stai sott' terra Occio dai aiutare lo attacchiamo differenziale blocchiamo tutto non ci credo che eva si ho rotto quello del porto grande lo frantumato per dire ma solo io sono riuscito a fare un danno del genere il riparabile riempire perché tc tc o no ma basta anche per la stasera non posso metterci otto giorni per fare un campetto e c'è sempre fretta dai su dove dovrei andare mica a dormire no sai che capio ti se era quel tubo lì che non serve a un cazzo dio boia servo servo ti fai la serra però mi sero ti fai la serra cristiano variscai dai stiamo salendo a cento quindicimila 15 30 45 tre carichi bisogna fare una cosa di pifos quanto si togono quel carro? quanto che so ho sentito noi in rio adesso quindi oggi ragazzi puntatona si incomincia anche con il segale ecco guarda che bello non è sinonimo di sega no no è solo segale guarda che beo guarda che beo ah una roba già comprava un rimorchio e questo qua e questo qua e beh si e adesso poi piano piano quando quando si ingrandirà l'azienda no, va bene anche un altro di quello lo tacchi dietro a quello e vai diventeremo il gruppo più forrissimo di farming più forrissimo immagina, immagina poi poi come ti ho già detto il nostro marchetto, non scherza perché mi scherzi no 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 oh, c'ho il mio trattore oh, c'ho il mio di rispostarti quando mi faccio le manovregio no, tacami sotto con la trebia che ti giro mi ti è volto si, ti è volto ti è volto al fiero ora vado a prendermi guardi traccia si, si, vado a baucia ti dai le bauce da sole no, ti io sono di Genova sono mica di Milano ti dai le bauce? no, a chi te lo devi a me? si, a ti no, prova a chiedere qualche cosa per la strada chiedegli se è lui il bauce no, io lo sai che sono una persona tranquillissima non lo farei mai si, guarda dai bene ragazzi mentre andiamo avanti con questo campo intanto Marchetto continua a vendere un po' di roba poi ci ritroviamo dopo specificato, colta a dopo ragazzi eccoci qui ragazzi siamo all'ultima passata per ultimare il campo adesso fra un po' andremo a vendere ancora un paio di carri così almeno riusciremo a comprarci anche l'irolatrice visto che dovremo poi prenderci cura di tutti i valori del terreno ci vuole un acquisto non è quello qua il nostro agrimarco che non desi sganciare la barba a posto io mi sono incastrato lascia, lascia, lascia lascia, lascia la mezza se il meno il 29 si fa il 29 fa la di colza riempio lascia il potere no 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 riempila 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 tranquilla c'è il 62% comunque se vuoi ce la posso fare ma fai come fai come vuoi e tanto se mai torno qua non è che Marchetto puoi scendere un attimino dal trattore io lo faccio prima vai oh guarda che bea allora dobbiamo andare cosa dobbiamo seminare scusate al frantoio colza 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 il semaforo com'è qua pigliamo la volta spento semaforo spento mettiamo la freccia mi porto mi porto trovi al 38 intanto si ma una cosa solo per curiosità proprio per caso c'è dentro la speedfire la la giocostra no 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 perché ho una trebia che ho e vanno sui soldini eh meno male tanto li spenderemo tutti subito praticamente come un baggero spi dentro allora andiamo allo store trattori oh il nostro sametto trattori il zame irroratrice dell'amazon poi il futuro acquisto sarà anche il serbatoio aggiuntivo ma vedremo più avanti eccoci qua bello quanto ti avanza così per curiosità 1000 euro ha 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 non ce lo facciamo righi 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 ricchissimi direi mamma mia la sto agganciando al contrario ma pensa a te troppo lavoro troppo troppo e partiamo al po' a bordo del nostro sametto nuovo guarda che bello bello pulito bello netto 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 ma proprio per caso lo resti in dotazione agri per per favore ad agri no 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 di andare avanti con agro star luigi è certo ha tutto il cielo l'uomo sto più giovane ma sono più vecchio si più giovane e appunto la più giovane la trattore più vecchio sembrano quel cavolo e appunto i giovani giovani sono più a tribunale allora lasciamolo qua poi la ricaricheremo dopo allora attacchiamo i lampeggianti ci fermassero mai i pulotti ed eccoci qua arrivati al montacarichi per vendere l'ultimo carretto guarda che bello il same però il nostro piccolo grande sametto ma è una roba ma spiegate il caricatore frontale no? no sul same non penso anzi no 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 non ho nemmeno le staff niente peccato peccato perché ha più potenza del mio mondo questo è che ha 190 cavalli mi sembra si ha 190 cavalli un po' più potente si non voglio dire no si fate 142 ehm si ehm 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 ed eccola qua la segale ha una bella texture dai si no diciamo sta mappa qua mi ha fatto bene dai no veramente merito ok poi incomincieremo a usare anche più avanti il compost ho visto che si può vendere anche al centro di giardinaggio esatto dai in modo da tirare più soldi possibile ecco si ehm qua mi dice umidità del terreno 29% mi sa che va 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 bagnato mi sembra mi sembra ok ragazzi via con la segale aspetta che sento la velocità beh mi so 10 non mi dico io sono 6 adesso mi 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 min e non tira male comunque questo tratcio no 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 per carburare la spinge spinge una стороны u alla fund anzi spero presto arriveranno anche le grafiche non spoileriamo non spoileriamo da chi ma vi diciamo che arriveranno delle belle grafiche e avatar per il canale esatto verranno verranno fatte alcune migliorie comunque vedrete che se va tutto bene diventerà una bella serie questa atti sono io che mi devo devo un attimo tre svelinarmi al microfono a parlare perché il nostro druido non ha domestichezza con il microfono occio che ti vengono e neanche qua guido mi sembra a me fuma di passare la pittine to the most subito questo metolo poi mi tocca portarlo subito da gino a farlo riparare guarda che bei che semo il carretto in stono un buco eh sì dai il prossimo acquisto prossimo acquisto un bel carretto un po' più grosso prendiamo l'agro liner no dai esatto che non è male come primo carretto eh se si potesse incrementare anche questa cultura insieme ai girasoli eeeh alla vena a me a fare una speedo a me ma un attimo anche per cambiare su una pena aspetta come l'altra cultura segale segale eo att cos'è la eeeh spazio di bussut perchè non mi non mi ricordo si a vena a vena comunque dovrebbe essere a vena 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 bene ragazzi noi andiamo avanti a a trebbiare e ci vediamo più o meno quando siamo a fine campo a dopo ed eccoci qua con l'ultima passata per terminare il campo 24 e via io son pieno vabbè no no ancora qua un po' andiamo a scaricare tanto cosa metto nuovo ci metto poco arrivo subito lampeggianti sono attaccati lampeggianti sono attaccati no 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 ma no ma no si te lo ha qua hai visto te lo ha detto che ho messo poco si a ver che le guarda trio eh 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 oh no ultimo ultimo ritocchi campo quasi quasi ultimato no dai l'ultimo ultimato l'ho finito finito andiamo 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 a trebbiare dai che ci sono dai che ci sono e le vatti con quella no ho sbagliato strada no no tito dici no giusto giusto saldo giusto no for niente ho sbagliato va si no giusto no giusto no giusto no giusto no giusto no giusto no si ti dico di si no e guarda mi ti dico e no oh no ma si infugna ha 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 io sono giusto io guarda che sono già qui eh 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 mi no oh giusto che mi rompi tutta la coltura qua no no si diverso ero un po' a trebbi sto finendo a tu fosso ah venga a vederti eh ah si si no no lascia qualcuno e venga a vederti subito all'istante guarda forse che fosso io fu no no stai di chi ti venga a vedere no no adesso vengo fuori nooo e che dai andiamo andiamo a goderci la scena no no vengo fuori a metodi comunque no no ti do una cavata dentro adesso che ecco ecco vedo la scritta dove sei andato a finire mamma mia oh colpo di un lag come erasarsi ecco mi sono erasato anche io adesso ecco bravo via guardalo guardalo dove va a passare con la trebbia che chissà adesso con l'unagro del più il tragitto no no forse ce la faccio lo stesso molto bene ce la faccio ho tempo e allora andare a comprare dei mezzi nuovi se poi me li inrazzano nei burroni non posso un punto del tour essendo troppo nella realtà anche un altro sale ho fatto una pirouette a prima che risultati cartello cartello in pieno si in effetti manca i doni su form no ti sei infognato di nuovo no no adesso andiamo su agganciamo il carro guardate lo marchetto che gira nei meandri della mappa sperduta alla ricerca del campo sperduto eccolo qua è arrivato no 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 dio buono mi sto pisciando addosso guardatelo 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 no no ho fatto che il mio gioco le comiche altro che serie attacca 4x4 ha non puoi sulla trevia forse non so bene non so bene il pristino la sop... me grinuccio se no aspetta aspetta che la porto su io no aspetta la fa sul giro qui non mancava niente no vanti cosa ha fatto io ti sto seguendo guardalo come sgomma le gomme nuove guardalo dai che ti spingo dai dai che ti spingo dai 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 stai faccio paura vabbè dai fosso giro dalla strada rinuncio dai mentre il nostro market 87 si sperde nei meandri della mappa alla ricerca del campo 38 sperduto ci vediamo dopo quando siamo pronti per la raccolta a dopo ed ecco qua pronti per il per la raccolta il nostro marchetto è riuscito ad arrivare a destinazione con pazienza ci vuole anche qui dopo che ha spaccato tre differenziali ha bucato due treni di gomme finalmente riusciamo a raccogliere riusciamo a raccogliere e vai e vai marchetto vai ah ci è costata cara eh mi ha mandato il conto Gino per i danni che hai fatto alla trebbia sarà meglio che non te lo dico tanto poi ti eh infatti eh se non ci fosse Gino tristi si fratta le mani si fratta Gino altro che quando ti vede ocio ocio vuole cavar medrio anche anche il trattore eh eh ti sei sempre in mezzo eh 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 dai oggi comunque mega puntatone eh abbiamo fatto due bei acquisti abbiamo incominciato con il segale che non è cosa da poco due campi di segale umidità terreno 29% nutrimenti per due nutrimenti per uno infestazione erbaccia nessuna prevenzione erbaccia zero eh bisogna alla prossima alla prossima semina bisogna fertilizzare fertilizzare e dare come si chiama la prevenzione per le erbacce quindi un erbicida ma se e poi penso i tirorare da col terreno infatti eccomo un po' nella realtà via come l'è passata pasqua tranquillo tranquilla tranquilla o finto tranquilla no tranquillo ansiché abbuffate da cino da 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 pasqua e che sta lì abbassando del grappa lì tutti attaccati alla bottiglia e andale proprio fa conto dai noi ragazzi andiamo un po' avanti con la raccolta e ci ritroviamo un po' più avanti a dopo ed eccoci qua ragazzi anche il campo 38 terminato eh devo dire che ne è venuto su un po' eh pensavo meno a posto via ecco qua andiamo subito a scaricare? si allora vai avanti tu ok allora andiamo a scaricare questo caro di segale e poi ahimè il nostro tempo ormai è finito e poi ci salutiamo no comunque ragazzi mi fa veramente piacere già subito avere un centinaio di visualizzazioni sulla sulla seconda puntata infatti guarda non è a parte che non ci pensavo nemmeno è stata una grandissima sorpresa e ci tenevo ancora una volta a ringraziarvi ecco è stato qua esatto soprattutto da da parte di druido ma anche da parte mia esatto e vai ok ok il raccolto è nel silos e siamo belli tranquilli ah poi qua ce la mettiamo è l'idropuritrice eh o direttamente anche l'autolavaggio anche si non male come idea ce la faccio a fare una manovra cavo potente se non ti si boh ok posteggiamo il sametto e anche beh chiese chi ha lasciato la trebbia accesa ups c'è ancora un trattore acceso agri bene ragazzi anche per questo episodio ormai è tutto mi raccomando lasciate un like un commento ma soprattutto iscrivetevi al canale e un saluto da x druido 88 e dal fame geratissimo marchietto 87 arrivederci a tutti alla prossima ciao a tutti alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao